Sapevate che il 90% delle persone al mondo usa Google come motore di ricerca? Ok, questo forse lo sapevate. Ma sapevate che un Google è un numero formato da un 1 seguito da 100 zeri? Ok, forse sapevate anche questo. Siete difficili, eh? Sono sicuro che però a questa domanda farete fatica a rispondere, ovvero le azioni Google sono da comprare o no? Il video di oggi, come al solito, è sponsorizzato da Trading212, che vi consente di investire in azioni e ETF in modo totalmente gratuito e senza commissioni. Oggi, come avete capito, andiamo ad analizzare Google, ma lo facciamo dopo la sigla. Benvenuti a tutti in questo nuovo video e oggi andiamo finalmente a parlare di Google. Dico finalmente perché è da quando ho iniziato questa serie che non vedo l'ora di analizzare insieme a voi Google. Infatti ci sono tantissime riflessioni interessanti da fare su questa azienda, quindi direi di iniziare subito. Vi ricordo che se volete potete acquistare titoli come Google sul mio sponsor, Trading212. E inoltre, se in fase di registrazione inserite il codice che trovate qui sotto in descrizione, potrete ricevere un'azione fino a 100€ di valore come bonus di benvenuto. Ok, ma da dove possiamo iniziare ad analizzare Google, che è un'azienda immensa e allo stesso tempo anche molto variegata? Beh, io come al solito provo a partire dal modello di business dell'azienda e di conseguenza anche da come fa a monetizzare. Piccola parentesi, questa analisi sarà un po' più particolare, direi più approfondita delle altre, perché Google opera in un campo che conosco abbastanza, quindi mi sento di dare dei giudizi un po' più specifici sulle dinamiche che governano un business come Google. Quindi direi che posso cercare di fare con voi qualche riflessione che va un po' oltre la semplice lettura dei bilanci. Quindi direi di iniziare subito e cercare di capire qual è l'arma segreta di Google. Se state guardando questo video, è molto probabile che abbiate appena fatto guadagnare a Google qualche centesimo. Infatti, se avete visto come è probabile una pubblicità prima di questo video, significa che una persona o un'azienda più in generale ha pagato Google per appunto essere posizionata prima di questo video. Probabilmente perché aveva inserito come target di riferimento persone a cui interessa la finanza. Sì, perché per chi non lo sapesse ancora, YouTube è un prodotto di Google. In ogni caso, questo è solo uno dei mille esempi di pubblicità che si possono acquistare con Google. Restando in tema YouTube, possiamo pensare appunto alle pubblicità prima dei video, a quelle durante e dopo i video. Poi ci sono i banner che vengono fuori da computer, i banner a lato da computer, oppure dei banner pubblicitari sotto al video che ultimamente state guardando da mobile. Uscendo da YouTube, invece, abbiamo tutti i vari risultati sponsorizzati di Google, quindi Google Search. Abbiamo i banner pubblicitari al lato di alcuni siti, banner che di solito vengono anche un po' incontro ai vostri gusti e alle vostre ricerche recenti. Inoltre, non dimentichiamoci delle pubblicità all'interno delle applicazioni sviluppate per Android. Anche quelle contano. Insomma, potremmo dire che oggi Google è il re della pubblicità online. Di conseguenza, non credo ci sia altro da spiegare, Google guadagna vendendo spazi pubblicitari. Sembra tutto così semplice, ma in realtà ci sono alcuni punti che dobbiamo tenere in considerazione quando si parla di vendita di spazi pubblicitari. I punti principali per far sì che una pubblicità sia efficace sono tendenzialmente due. Il primo è che la pubblicità deve raggiungere il target deciso, senza andare a includere altri target che non erano stati previsti, altrimenti ci sono, diciamo, delle inefficienze che vanno a costare inutilmente. Se il mio target è donne in gravidanza e quella pubblicità la vede anche una sedicenne, ecco che allora la pubblicità non ha molto senso. Forse. Inoltre, la pubblicità deve raggiungere il maggior numero di persone possibili, sempre restando però all'interno del target deciso. Quindi, prima di tutto, dobbiamo chiederci, Google ha la possibilità di far vedere le proprie pubblicità, o meglio, le pubblicità che vengono acquistate tramite Google a tantissime persone? Direi indubbiamente sì. Tanto per cominciare partiamo da Google Search. Il 90, per la precisione, il 92% delle persone a livello globale utilizza Google come motore di ricerca. Poi abbiamo anche Android, che al momento è installato sul 76% dei dispositivi mobili. Sì, perché anche Android è di Google. Sì, ma molto più importante, Google ha la possibilità di raggiungere il target giusto? Utilizzando tutta la miriade di dati che l'azienda raccoglie dai suoi infiniti prodotti, Google riesce a profilare, questo è il termine corretto, profilare l'utente e quindi proporgli le pubblicità più idonee a lui. E questo chiaramente fa sì che gli inserzionisti, quindi chi compra gli spazi pubblicitari, siano disposti a pagare tanto. Se ci pensate, infatti, tutti i prodotti Google sono pensati per raccogliere dati. Come? Facendoti rimanere all'interno del loro sito, prodotto, servizio, quello che è. Google cerca sempre di mantenervi all'interno del proprio ecosistema, perché se infatti a un certo punto finite sul sito di Pippo Tizio, lì Google, mettiamola così, non ha giurisdizione, non può raccogliere i dati che appunto ci sono su quel sito. E non avere la possibilità di raccogliere dati per Google è un enorme danno, perché appunto a Google servono i dati per riuscire a profilare meglio gli utenti e a proporgli le pubblicità più utili. Per fare tutto ciò, Google ha cercato e continua a cercare di migliorare l'esperienza dell'utente affinché non sia più necessario abbandonare l'ecosistema e che quindi si possa restare sempre all'interno dell'ambito dei prodotti Google. So che questo non è un concetto estremamente automatico, ma vi faccio un esempio che sicuramente vi farà capire meglio le cose. Pensate a un settore dove Google in questo momento non riesce proprio a entrare. L'e-commerce. Sì, esiste Google Shopping, ma si ferma al primo livello. Se cercate su Google cibo per cani e trovate un risultato all'interno di Google Shopping, ma poi finite su Amazon e su Amazon magari finite per comprare delle cover per iPhone, Google saprà solamente che vi interessa il cibo per cani, non saprà minimamente che vi interessano anche cover. Questo semplicemente per farvi capire quanto sia importante e fondamentale anche ai fini del business mantenere una persona all'interno del proprio ecosistema in modo tale da raccogliere dati. Però direi che, discorso e-commerce a parte, Google in questo ha un enorme vantaggio competitivo. Anche perché tenete conto che ad oggi Google ha quasi la totalità dei ricavi provenienti dalla pubblicità. Quindi è quasi obbligatorio cercare di costruire un sistema in cui la pubblicità funziona. Attenzione però a come stanno le cose e qui iniziamo a vedere qualche numero. Ogni anno infatti aumentano, e anche di tanto, le pubblicità in termini di numero, il che è ovviamente un bene. Ciò che diminuisce però è il costo per click, in altre parole quanto paga mediamente un inserzionista per un click sulla propria pubblicità. Quindi oggi fare pubblicità su Google è mediamente meno costoso, ma attenzione. Questa media è sfasata dalle pubblicità su YouTube, che stanno crescendo a un ritmo incredibile e sono più economiche della media. Quindi abbassano il valore medio del costo per click. Per intenderci infatti il costo per impressione, che vuol dire quanto è disposto a pagare un inserzionista solo per una visita sulla propria pubblicità, continua a salire. Abbiamo parlato del discorso pubblicitario, ma per Google in realtà c'è anche molto altro da dire. Parliamo di Google Ventures per esempio, una realtà che non in tanti conoscono. Una divisione creata appositamente da Google per investire in startup con enormi potenzialità. Nel loro portafoglio in questo momento abbiamo aziende come Uber, Slack, Stripe, DocuSign e Impossible Foods. Sono sicuro che di queste ne avrete sentite almeno due prima di ora. Poi c'è Waymo, la risposta a Tesla per quanto riguarda l'auto a guida autonoma. Allo stato attuale delle cose è innegabile che Tesla sia più avanti rispetto a Waymo e anche di tanto. Ma attenzione, Tesla ha questo vantaggio principalmente per i dati che al momento sta già raccogliendo. Infatti Tesla ha già delle auto sul suolo pubblico, Waymo no. Però stiamo sempre parlando di Google e quindi è facile pensare che un domani Google possa svegliarsi e dire Ok, sapete che vi dico, ho un sacco di liquidità, la butto tutta dentro il progetto dell'auto a guida autonoma. Quindi secondo me Waymo è da tenere d'occhio. Per non parlare poi dei dispositivi Nest e Google Home, anche quelli, come abbiamo detto prima, perfetti per raccogliere dati e profilare gli utenti alla perfezione, fornendo però in cambio un ottimo prodotto. Ok Google! Insomma, le potenzialità di crescita e i mercati in cui crescere direi che ci sono. Da come ne parlo però sembra che non ci siano rischi e che tutto non possa fare altro che andare benissimo. Non è proprio così. A parer mio il più grande rischio che un'azienda come Google potrebbe affrontare in un futuro prossimo è quello politico. In altre parole la possibilità che i legislatori, quindi autorità antitrust e cose di questo tipo, possano mettere un freno alla crescita di Google. O addirittura alcuni parlano di smembramento. Non è un rischio così astratto, quindi bisogna tenerne conto. Chiaramente è un rischio quasi impossibile da prevedere, però secondo me bisogna tenere d'occhio appunto la linea politica che si sta seguendo. Andando però ai numeri, vediamo un po' come messa Google dal punto di vista dei bilanci. Al momento Google capitalizza 860 miliardi di dollari, avete capito bene. E nell'ultimo anno ha fatturato 136 miliardi e ha avuto un utile di 30 miliardi. In termini di indebitamento Google è praticamente un gioiello, quindi direi di non fermarci nemmeno un altro minuto sul debito e andiamo avanti. I margini sono sempre stati stabili, tranne nel 2017, che però possiamo escludere perché è stato un discorso relativo alle tasse. Abbiamo quindi margini stabili del 20% o più e anche questo è ovviamente un ottimo segno. A livello di crescita siamo ovviamente su valori alti. Le vendite sono cresciute del 15% annuo negli ultimi 5 anni, un po' meno rispetto a una decina di anni fa, ma stiamo sempre parlando di un settore che cambia in modo molto veloce e anche questo è considerabile un rischio. Gli utili invece hanno avuto una crescita sempre costante, anche rispetto a una decina d'anni fa, tra il 16% e il 18%. Se dovessimo fare una proiezione per il lungo periodo saremmo abbastanza in difficoltà perché prevedere come potrebbe essere Google tra 10 anni è pura fantasia. Ipotizziamo però una crescita del 16% degli utili per i prossimi 5 anni e del 12% più bassa, decisamente più bassa, per gli altri 5. Otteniamo quindi una crescita del 14% annuo, tra l'altro compatibile con la crescita prevista dagli analisti, che in questo momento è del 13%. A livello di valutazioni in questo momento Google ha un rapporto prezzo-utili di circa 25, un prezzo-utili forward, quindi basato sugli utili dell'anno successivo, di 22, contro un prezzo-utili medio degli ultimi 5 anni di 33. Infatti al momento siamo a una delle valutazioni più basse degli ultimi 5 anni, come vedete anche dal grafico, e questo è un altro ottimo segno. Ma domanda delle domande, è da acquistare? Per rispondere prima di tutto dobbiamo fare un discorso sul margine di sicurezza, che per quanto riguarda Google, lo dico, in questo caso per me è molto basso. Stiamo parlando infatti di un'azienda leader del, anzi, dei settori, con pochissimo debito, un potenziale di crescita enorme e virtualmente senza concorrenza. Inoltre quando anche dovesse arrivare l'ombra di una parvenza di competizione, Google potrebbe tranquillamente comprare il potenziale competitor, come è accaduto per esempio con YouTube. Inoltre Google è un'azienda che nell'ultima crisi non ha smesso di crescere dal punto di vista dei bilanci. Di conseguenza posso sentirmi tranquillo anche con un margine di solamente il 15%. Ipotizzando un prezzo utile al termine di 33, che è quello medio degli ultimi 5 anni, e una stima di crescita nel lungo periodo del 14%, otteniamo un prezzo d'acquisto di 1.300 dollari circa. Quindi in questo momento sì, sarebbe un buon acquisto. Per chi non si sentisse così tranquillo, aumentiamo il margine a 25%, invece di 15%. Abbiamo un prezzo di acquisto di 1.150 dollari. In altre parole, il titolo dovrebbe perdere circa il 7%, che non è nemmeno così impossibile. Se andiamo sul grafico, però, vediamo che non c'è un trend ben definito. Da gennaio il titolo è cresciuto del 16%, ma come vedete è tornato ai minimi più o meno verso giugno. Se guardiamo le medie mobili, in questo momento c'è un po' di forza rialzista, ma il livello 1.236-1.246 potrebbe essere una resistenza importante. Infatti il MACD, che è un oscillatore che segnala la forza del trend, ha già girato in negativo ad indicare che il trend non sembra più avere così tanta forza. Stessa cosa per lo stocastico, che è un altro indicatore di forza, che qui ha rotto al ribasso il livello degli 80, che è un altro segnale tipicamente interpretabile come negativo. Quindi, per riassumere, Google per me è un buon acquisto? Sì. Vorrei vedere un grafico un po' migliore in termini di trend, e quindi vedere un trend anche abbastanza definito. Diciamo che è un titolo per cui sto tenendo la liquidità per il momento giusto, e spero che il momento possa arrivare, tra l'altro, entro la fine dell'anno. Poi, se invece il titolo dovesse girare e andare verso il basso, cercherei dei potenziali segnali d'acquisto, ma spezzando l'acquisto della posizione. Quindi non entrerei con tutto il capitale subito, ma cercherei di fare un po' averaging verso il basso. Se poi dovessimo raggiungere i mille, come è stato verso giugno o verso gennaio, inizierei a caricare di brutto, perché quello per me è un ottimo prezzo, e la considererei quasi regalata. Ovviamente, non c'è nemmeno bisogno che lo dica, vero? Non è un consiglio finanziario. Non basate le vostre operazioni su questo video, ma fate, come al solito, le vostre ricerche. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, e mi spiace se è durato troppo, ma come ho detto, c'erano davvero troppe cose da dire. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, trovate qui il nome e anche qua sotto in descrizione, perché per la prossima azienda ci sarà un sondaggio, come al solito. Quindi avrete la possibilità di scegliere l'azienda del prossimo video. Quindi, per questo video è davvero tutto, io vi saluto e alla prossima! I'm gonna throw my memories away, now I feel undone, and I am cursed by every day, till my time is gone.